signori buongiorno ben ritrovati a tutti dottor Manfredo ben ritrovato seduta ordinaria dell'otto febbraio duemilaventuno reddice trentatré possiamo procedere con l'appello? Sì buongiorno Aresu assente Cannella assente Di Muli presente Maraventano assente Nona assente Pernice assente Sino assente Susinno assente Tumbarello assente Valenti assente e allora presenti solo lei presidente è stata l'assenza del numero legale il presidente chiude la seduta e la rinvia alle undici e trentaquattro a dopo a dopo buongiorno buongiorno grazie a tutti grazie a tutti